Ben trovati al meteo. Drastico cambiamento di scenario nel weekend a causa di una perturbazione che porterà maltempo e temperature in lieve calo. Il dettaglio di sabato 29 agosto. Sul Veneto al mattino ancora qualche spazio soleggiato. Condizioni via via spiccatamente più instabili con nuvolosità in aumento. Temporali dapprima sulle zone montane e pedemontane col passare delle ore. Fenomeni anche altrove. Attenzione perché localmente saranno anche forti il rischio di criticità idrogeologiche. Temperature minime fino a 21 gradi. Valori massimi invece tra i 27 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia in mattinata qualche pausa asciutta. Piogge diffuse specie dal pomeriggio localmente anche intense. Temperature minime tra 19 e 23 gradi. Valori massimi oscillanti tra i 30 e i 32 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Stessa scenario con tempo molto variabile con rovesci e temporali un po' dappertutto. Temperature minime sui 17 e 18 gradi. Massime intorno ai 28 gradi. Dal Meteo per ora è tutto. Vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.